Gianni Colacione per LibriTV, siamo in compagnia della dottoressa Antonella Palmitesta che è una psicologa, sessuologa e psicoterapeuta e parliamo di una conferenza stampa, di un convegno, di un dibattito che si è tenuto nella sala ISMA di Piazza Carvanica del Senato intitolato Ti accompagno l'importanza del sostegno psicosessuologico per le persone transgender Ecco Antonella, ci sono stati anche dei relatori importanti, è intervenuta la senatrice Cirinna, poi la moderazione anche di Gara Lalli che su LibriTV abbiamo avuto anche in altre occasioni, com'è stato questo evento e nel merito di che cosa si è parlato? Io ho fortemente voluto questo evento che devo dire che è ben riuscito, a tal punto che non avevamo più posti a sedere infatti la sala conteneva 65 persone, alcune persone purtroppo sono dovute andare via quindi sono contenta e penso che sia stata la prima volta che finalmente ci si sofferma sull'importanza psicosessuologica nel percorso di transizione. Ho fortemente voluto questo evento perché spesso sono vista come qualcuno da cui andare per avere un certificato non è questo, ma io dico sempre è un accompagnare la persona, un chiarire ad esempio che l'orientamento sessuale è differente dall'identità del genere, dirgli che non sei solo, non sei sola, chiedergli qui e in questo spazio come vuoi essere chiamato o chiamata questa domanda che può sembrare banale per una persona che come dico sempre è nata in un corpo sbagliato è forte, dice ok almeno in questo momento posso permettermi di essere quello che da sempre in realtà sono e anche essere chiamato o chiamata come io desidero, quindi col mio nome elettivo si accompagna la persona in quelli che sono i coming out sociali, con la famiglia, sul posto del lavoro gli dico anche tu non sei solo, ma non soltanto per quanto riguarda la parte psicosessuologica ma noi siamo una rete, abbiamo all'accoglienza una persona attiva, quindi nel nostro caso Michele Formisano che con la parte peer-to-peer accoglie la persona, dopodiché c'è la parte psicologica c'è il supporto alle famiglie, c'è poi la parte legale e la parte ormonare fino ad arrivare a quella chirurgica io specifico psicosessuologico il supporto, non soltanto psicologico perché c'è tutto lavoro col corpo, con lo specchio, su quello che in questo momento non accetto di me e la bellezza di vedere anche come il corpo cambia con quelli che sono gli ormoni e anche tutto quello che è il rapporto con l'altro, con l'altra da me quindi la difficoltà a viversi magari il proprio orgasmo come posso ad esempio trovare una soluzione col binder, quindi coprire il mio seno o mettere lo strappone nel rapporto sessuale o magari alcune persone usano lo slip per non scoprire i genitali e anche la bellezza di come cambia il piacere quando si iniziano a prendere gli ormoni e fanno gli interventi chirurgici come disse una mia paziente, non lo so se prima ho avuto l'orgasmo pieno perché non mi sono mai toccata ma ad oggi quello che è il mio orgasmo e va benissimo così è un qualcosa di molto ma molto delicato ancora c'è chi ad oggi usa la violenza o anche la professione per tentare di curiare l'identità sessuale l'identità di genere e l'orientamento sessuale ecco colgo l'occasione ringraziando Liberi TV per ricordare che l'identità di genere si forma da 0 a 3 anni non cambia durante tutta la nostra vita per cui assolutamente non è che se io mi sveglio voglio essere Napoleone divento Napoleone, quella è una psicosi quando parliamo di sforia di genere non parliamo assolutamente di psicosi ma appunto di anime nate in corpi sbagliati così come anche l'orientamento sessuale non si cura e che sono tre e sono tutti e tre in natura, non è soltanto l'eterosessualità che è in natura Antonella, questo evento di cui stiamo parlando in cui purtroppo colpevoevolmente Liberi TV non è stata presente si è tenuto in una sala che fa parte di un'istituzione quindi in qualche modo il dialogo con le istituzioni è importante perché sono quelle che in questo paese che è pieno di leggi in qualche modo in cui tutto è negato tranne qualcosa che viene consentito dalle leggi sono appunto quell'oro le istituzioni che poi dovrebbero preparare e elaborare i testi legislativi ora c'è una vicenda politica in corso in Italia abbastanza conosciuta ormai è anche lunga, dopo tanto tempo si è formato un governo c'è una maggioranza di un certo orientamento politico ecco tu in prospettiva pensi che ci sarà possibilità di aperture, di allargamenti nel campo dei diritti civili perché di questo parliamo con questo tipo di maggioranza con questo tipo di referenti politici questa cosa fu chiesta all'avvocata Chetila Torre con cui lavoriamo lei disse se la legge non ce lo permette la giurisprudenza sì per cui tranquillamente già fare un qualcosa del genere in Senato ci fa capire che c'è ancora qualcuno che ci crede ecco che non siamo soli e poi io penso che così come è stato per la stepchild che non è passata come legge ma grazie alla giurisprudenza ad oggi abbiamo tante mamme e tanti papà a cui sono stati riconosciuti appunto la coadozione da parte della compagna o del compagno io penso che anche per quanto riguarda la disforia di genere stiamo andando avanti anzi noi siamo stati pomeriggio in Senato ma la mattina siamo stati all'Istituto Superiore di Sanità dove per la prima volta finalmente abbiamo parlato della salute delle persone dell'importanza che gli ormoni devono essere gratuiti che ogni regione non deve avere dei costi differenti e vorremmo che ci fossero più centri per l'accoglienza delle persone transgender e che finalmente anche la parte della psicoterapia non deve essere pagata dalle persone ma deve essere in convenzione deve essere assolutamente convenzionata per cui noi ce l'auguriamo e chissà magari un giorno la Lega cambia idea magari non posso curare un figlio omosessuale o transgender perché è un bello curio che gli farei ma chissà io scrissi un post dopo il caos che c'è stato per quanto riguarda il nostro ministro che non riconosce sulla famiglia che non riconosce lui dice di essere cattolico io ho molti pazienti credenti e gli ho raccontato appunto questa storia meravigliosa di questa ragazza che viene e mi dice dottoressa lei deve immaginare il cielo con tante nuvole bianche intorno e in mezzo a un corridoio lunghissimo con tante persone in fondo c'è Dio ogni volta che una persona arriva Dio mette un'anime in un corpo purtroppo quel giorno che sono arrivata io Dio era ubriaco ha messo un'anime in un corpo sbagliato ho tante persone che dicono ma se io riconosco di amare un uomo poi Gesù non mi vuole più bene quindi io non penso che Gesù non voglia più bene una persona o quant'altro per cui se vogliamo basare sulla religione visto che il ministro della famiglia ribadisce questa cosa ci sono tante persone omosessuali o con disforia di genere che sono molto credenti quindi forse la volta buona che si dà conferma che non ci sono differenze e possono farla loro la differenza ma la vedo dura vediamo ecco peraltro insomma non molto tempo fa addirittura il Santo Padre che insomma pare che sia un'autorità riconosciuta dai cattolici spirituale insomma a un certo punto ha detto ma chi sono io per giudicare insomma c'è qualcuno che ancora non si è allineato appunto neanche al pensiero del Santo Padre io spesso sono molto ironica no perché spesso quello che ci fa pure è quello che non conosciamo e prendere di petto arrabbiarci non ci porta a concludere nulla io eronicamente spesso dico beh alla fine Gesù era figlio di tuo papà no di Dio e di Giuseppe per cui da lì nasce l'omogenitorialità no e quindi è un po' questo poi noi abbiamo fatto questo convegno in tutta Italia sul rapporto dell'identità sessuale con la fede in realtà tanti sacerdoti sono venuti hanno detto no assolutamente sono anche alcuni che fanno catechesi per cui ti direi di più scusa ti interrompo io conosco di persone che hanno avuto ma molto tempo fa quando l'educazione sessuale proprio ma neanche si faceva la pedagogia i maestri andavano a scuola ma non esisteva ancora la pedagogia quindi parliamo degli anni 70-60 cresciute nei collegi religiosi che hanno avuto i primi rudimenti di educazione sessuale ovviamente improntata alla riproduzione dalle suore sì sì anche perché ora non mi accingo ad entrare penso che il sesso è una cosa la cosa più naturale è come il cibo se tu non mangi muori no quindi anche la parte sessuale per cui non ci sorprendiamo no se qualcuno poi ci racconta che all'interno di alcuni ambienti ecclesiastici abbiamo sacerdoti omosessuali suore lesbiche o eterosessuali no perché andiamo a reprimere un qualcosa che è organico e biologico ci saranno persone che tranquillamente non avranno delle relazioni delle attività sessuali ma tante ma tante no per cui anzi laddove andiamo a reprimere un qualcosa io ho paura diventa pericoloso eh sì si innesca un diciamo un circuito vizioso ma vizioso nel senso pericoloso ringraziamo Antonella Palmitesta abbiamo appuntamento su LibriTV dove di questi argomenti abbiamo parlato abbiamo vari video non ultimo anche con un video appunto si accennava prima alla cura dell'omosessualità un video che ha fatto scaturire su youtube migliaia di commenti ancora avanti da 4-5 anni ogni tanto qualcuno commenta grazie ancora grazie a voi